Continua a essere al centro anche delle attenzioni e delle preoccupazioni delle persone. Nel numero di questa settimana proponiamo un aggiornamento sulle regole che sono entrate in vigore proprio questa settimana, dando nuove opportunità alle persone, ma anche facendo presente che ci sono alcuni settori che ancora hanno bisogno di ripartire e di essere regolati per questo. In particolare facciamo una segnalazione sul problema degli asili nido e della gestione dei bambini più piccoli. Ma ancora, sempre collegato all'emergenza sanitaria, la necessità di garantire una ripartenza anche economica al territorio della provincia di Belluno. E a questo proposito segnaliamo le opportunità che si possono aprire al turismo, perché in montagna dalla crisi, da questa crisi, possono anche evidenziarsi delle possibilità di accoglienza che in altre parti non ci sono e può quindi diventare un'opportunità per la nostra provincia. E infine la sottolineatura di due valori, quello della responsabilità naturalmente, che è la condizione perché tutto possa andare per il meglio, ma anche quello della fiducia. È necessario avere uno sguardo positivo sul futuro. È questo sguardo che può dare l'energia, l'inventiva, per costruire la novità di cui c'è bisogno, di cui in avanti.